Non è che ci sono molte polemiche, c'è un deputato dei 5 Stelle, un parlamentare della Repubblica che ha detto delle frasi infamanti e allucinanti sul Presidente Napolitano. È una cosa vergognosa che francamente innanzitutto ci porta a dire che dobbiamo mostrare tutti la nostra solidarietà, la nostra stima e il nostro rispetto al Presidente della Repubblica. Mai nella storia repubblicana si era arrivati a un punto per cui un parlamentare, un cittadino che rappresenta gli altri cittadini, avesse detto delle parole così dure nei confronti del Capo dello Stato. Detto questo, qui c'è un particolare in più e io lancio un appello alle deputate e ai deputati del Movimento 5 Stelle, fino a quando continueranno a vedere quelli che insultano, che predicano una violenza verbale, che utilizzano parole assurde, fino a quando vedranno queste persone prevalere rispetto ai tanti deputati di 5 Stelle che sono persone per bene e che vorrebbero lavorare. Tra i 5 Stelle c'è tanta gente che vorrebbe dire proviamo a cambiare l'Italia e invece quando si è trattato di fare le riforme Grillo ha detto no, quando si tratta di discutere nel merito arrivano a urlare e a insultare il Presidente della Repubblica. Per uno che urla e che sbraita ce ne sono 5, 7, 10 che fanno bene il proprio lavoro. Forse è arrivato il momento di lanciare un appello a questi deputati 5 Stelle di uscire finalmente allo scoperto, di dire quello che pensano perché sono persone per bene, che fanno bene il proprio lavoro e che sono costrette dalla violenza verbale di pochi a non dare una mano all'Italia. Io credo che l'Italia abbia bisogno anche del loro contributo.